Nel mio canale oggi vi parlerò di Lele Cocco del Parole e questo sacciotto della Clementoni che è indicato dai 6 mesi in su. Ma vediamo nel dettaglio cosa fa questo sacchiotto. Questo sacchiotto ha 4 funzioni per ogni parte, 5 pulsanti tattili. Parti le mani, parti le 1, 2, 1, 3 e ho detto a tutti i macchini per portare esattamente a me. Apprecciami forte, ti voglio bene. Scende dal cielo un ostellino per la scintella che porta vicina. Non ci sono niente che ad apportare, chiude gli occhi di portare. Tanti animali che incongono il bosco, alcuni sono grandi, qualcuno con l'accosto vuoi conoscere lì da dimmi di sì. Se mi chiamano loro a bici. A come A. C come luco. C come uccide. Sono il barattolo di miele. Con il rito. Due cucchiaini. Buon appetito. Tre sono le api. Aiuto. Sono vicine. Uno come il barattolo di miele. Tre come i cucchiaini. Per mangiare cibi genuin. Tre come le api. Molano e rosa. Che di di chi? Tante forme, tanti colori. Basta guardare un attimo da fuori. Cerchi, triangoli oppure quadrati. Guarda bene, costa a tutti i lati. Tiamo. E. Cerchio. Rosso. Quadrati. Nuo. Un cuoricino rotto. Ma se forse a più non posso. Come un tamburo e sai perché. Per tutto il bene che voglio a te. Mi piacciono le corde. Ti voglio bene. Apprezzami forte. E' tutto morbido. Le molte parti dure. Appunto è qua. Diciamo sul cuoricino. E' un po' il meccanismo. Però diciamo si sente di meno. Rispetto agli altri peluche musicali. E' davvero simpatico. Spero che questo video vi sia piaciuto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao. Grazie.